Il coraggio di esporsi. Il recente intervento di Davide Bonolis a Ballando con le stelle ha sollevato un acceso dibattito sulla vulnerabilità maschile e sul modo in cui le nuove generazioni affrontano le proprie emozioni. Il giovane, accompagnato dalla madre Sonia Bruganelli, ha condiviso un momento intimo, rivelando le sue difficoltà personali legate a una delusione d'amore. Questo gesto purtroppo non è stato accolto con entusiasmo da tutti, in particolare dal padre Paolo Bonolis, che ha espresso il suo dissenso riguardo alla scelta del figlio di esporsi in un contesto televisivo. Generazioni a confronto. La reazione di Paolo Bonolis è emblematicamente rappresentativa di una generazione che ha sempre visto la vulnerabilità come un segno di debolezza. In un'intervista, Sonia Bruganelli ha spiegato che il padre di Davide proviene da un'epoca in cui gli uomini non erano incoraggiati a mostrare le proprie fragilità. Paolo non l'ha sgridato, ma è cresciuto con l'idea che un maschio di 20 anni non debba mostrarsi così, ha dichiarato la produttrice. Questo contrasto tra le generazioni mette in luce come il dialogo sulle emozioni stia evolvendo, con i giovani che si sentono sempre più a loro agio nel condividere le proprie esperienze, anche in pubblico. Il ruolo dei media nella narrazione delle emozioni. Il dibattito si sposta anche sul ruolo dei media nel trattare temi delicati come la vulnerabilità. Paolo Bonolis, pur riconoscendo l'importanza di affrontare le proprie debolezze, ha manifestato preoccupazione per il contesto in cui queste confessioni avvengono. Ci sono rischi che le emozioni vengano banalizzate o strumentalizzate, ha affermato. Questo solleva interrogativi su come i programmi televisivi possano influenzare la percezione della vulnerabilità e se sia opportuno esporre tali momenti intimi al grande pubblico. La questione si fa ancora più complessa quando si considera che per molti la televisione è un palcoscenico dove le emozioni possono facilmente diventare oggetto di critica o di scherno. La necessità di un cambiamento culturale. Il caso di Davide Bonolis rappresenta un'opportunità per riflettere su come la società percepisca la vulnerabilità maschile. È fondamentale promuovere un cambiamento culturale che incoraggi gli uomini a esprimere le proprie emozioni senza timore di essere giudicati. La figura di Davide, che ha scelto di affrontare le proprie fragilità in un contesto pubblico, potrebbe diventare un simbolo di questa nuova era. La sensibilità e la benessere è sempre più e più dentro del debetto. E la sfida rimane quella di trovare un equilibrio tra l'espressione autistica.